Ma lei ha mai sentito la posizione che dica qualcosa di positivo rispetto a quello che facciamo? Noi faremo il policlinico universitario, metteremo a posto l'ospedale vecchio perché è sempre stato scritto nelle carte che l'ospedale vecchio verrà riqualificato, l'attuale policlinico, verranno demolite le parti in più e sarà una realtà da un migliaio di posti letto. Luca Zaia risponde così alle critiche sulla decisione presa riguardo al nuovo ospedale cittadino sorgerà a Padova Est e sul futuro dell'attuale nosocomio. Il governatore dopo che i tecnici hanno scartato le altre soluzioni optando per quella proposta dal sindaco Bitonci con l'avvaldo del neo direttore generale dell'azienda ospedaliera Flor, ora parla di una grande opportunità. Sorgerà, dice, un polo che attirerà pazienti da tutta Europa. Stiamo parlando di un policlinico universitario che innanzitutto sarà attrattivo rispetto alla mobilità sanitaria. Vi ricordo che dal 2014 i cittadini europei possono decidere di andarsi a curare in qualsiasi paese e il paese d'origine pagherà ovviamente i costi. Sarà un grande punto di riferimento scientifico. Prima pietra nel 2018 anche se Zaia affretta. Io spererei anche un po' prima, visto che abbiamo studiato tanto, ci siamo molto allenati in questi anni, recupereremo un po' di questo allenamento. Per la grande opera serviranno risorse. Questa è l'idea del sindaco Bitonci per finanziare il nuovo ospedale. Potrebbe essere recuperando il finanziamento, quello del project financing. La regione, Zaia, ha detto che metteranno a disposizione comunque delle somme anche a livello regionale in modo che se anche dovesse essere un project sarà di importo inferiore di quello precedente. Grazie a tutti.